Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi sul Corso Progresso 41 Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Stai facendo una specie di correttoio. Stai facendo un correttoio. Stai facendo un correttoio. Stai facendo un correttoio. Stai facendo una Covid-19 per un secondary tecnico. Sanno facendo un correttoio. Stai facendo un correttoio. Stai facendo unicoci di correttoio. basta è arrivato? è qua tira, tira basta, basta mischiere d'acqua al ragazzo per favore vabbè, vabbè, vabbè fatelo sedere, vabbè mettelo sedere grazie 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 ci vediamo grazie la assunta è che 60 di 70 di 80 61 di Sì, è lì, è lì, è lì. No, 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 no. Ah, pure il tumore è parte del cascatore. Vieni tu e che. Ma che è stata fatta posto? Staccate che si recuperiamo la scuola. Siamo alle sette e mezzo, no? Siamo alle sette e mezzo, no? Siamo alle sette e mezzo, no? Vedi tutto il resto è tuo? Sì. Siamo alle sette e mezzo. Siamo alle sette e mezzo. Grazie. Grazie.